Dopo la presentazione del prototipo di tipo LMDH alla 24 ore di Le Mans del Centenario, Alpine ha iniziato ad eseguire i test per la preparazione all'esordio nella classe delle hypercar di WEC e IMSA. Nel corso delle ultime sessioni eseguite sul circuito di Jerez, Mick Schumacher ha iniziato a conoscere il mondo dell'endurance alla guida del prototipo A424 con il supporto del team francese. In questo contenuto analizzeremo il progetto di Alpine e dell'eventuale collaborazione con Mick Schumacher, cercando di capire se potrà essere competitivo nella stagione 2024, soprattutto nei confronti di team e case veterane nel panorama endurance a livello mondiale per quanto riguarda il WEC, Toyota, Ferrari e Porsche, ma anche nei confronti di Cadillac e soprattutto Acura per quanto riguarda la serie americana IMSA WeatherTech Sports Car Championship. Fino a 2022 Alpine aveva gareggiato nel WEC nella classe delle hypercar prima di decidere di scegliere la categoria LM P2 per il 2023 utilizzando questo ultimo anno di permanenza nel mondiale endurance da parte di questa tipologia di prototipi come preparazione per lo sviluppo della nuova vettura LMDH, un nuovo prototipo che, come da regolamento che disciplina le hypercar, permetterebbe alla casa francese di poter gareggiare sia nel WEC che nel campionato americano IMSA. In merito alla partecipazione alla serie americana, il team starebbe discutendo con la squadra statunitense Mayer Shank Racing per una possibile iscrizione dalla stagione 2025. Infatti, il team, che ha vinto l'ultima edizione della Petit Le Mans, non parteciperà al campionato WeatherTech dopo la separazione da Acura, ma intende comunque tornare in griglia nella serie americana nel 2025. Il vicepresidente di Alpine, Bruno Famine, ha comunque recentemente dichiarato a Sports Car 365 che attualmente il team si sta concentrando principalmente sulla preparazione per il mondiale 2024 del WEC, ma che comunque i colloqui con Mayer Shank sono in corso, anche se per il momento senza fretta. L'opportunità di entrare nel mercato americano, unita a quella che potrebbe permettere al team con sede nell'Ohio di tornare nella serie Endurance, potrebbe costituire uno scenario favorevole a entrambi, contribuendo alla visibilità attraverso la competizione sia nel WEC che nell'IMSA. Alpine intende infatti lanciare il brand sul mercato americano dal 2027 e l'ingresso nell'IMSA potrebbe essere considerato un'ottima piattaforma di marketing, anche se questa operazione non è ancora stata confermata definitivamente. La progettazione del prototipo A424 è iniziata addirittura alla fine del 2021, in collaborazione con i partner ORECA e il team Signatech che gestirà la competizione in pista, ed è proseguita per tutto il 2022 portando il prototipo su strada per i primi test nel maggio del 2023. Alpine si sta quindi preparando concretamente con la nuova vettura che dal 2024 vedremo in pista sicuramente nel WEC e quindi anche nella 24 ore alla SART e forse in un prossimo futuro anche nell'IMSA e nella 24 ore di Daytona. Le caratteristiche tecniche del prototipo sono ovviamente conformi alle norme dimensionali per le hypercar con lunghezza di 5 metri, larghezza di 1,99 metri e un passo non superiore a 3,15 metri. La struttura ha una scocca in carbonio con telaio progettato in collaborazione con ORECA e un propulsore Mechacron V6 comprendente motore termico e parte ibrida, il tutto con un cambio sequenziale a 7 rapporti e dischi dei freni in carbonio. La A424 è scesa in pista inizialmente in Francia al Port Ricard e poi a Portimao per diverse sessioni di test. E ha poi proseguito con altri chilometri macinati sul circuito di Aragon fino alle sessioni di ottobre sul circuito di Jerez nelle quali Mick Schumacher ha potuto esordire alla guida di una vettura del Mondiale Endurance per prepararsi a capire meglio il prototipo e il suo comportamento in pista in quello che in realtà è stato un programma relativamente breve, servito più che altro al team per conoscere meglio il pilota tedesco figlio d'arte. Attualmente Mick Schumacher è terzo pilota Mercedes in Formula 1 anche se il team con la guida Toto Wolff ha dichiarato che in caso di un accordo tra il pilota tedesco e Alpine gli sarebbe permesso di competere nel WEC mantenendolo comunque nell'organico come il pilota di riserva per i titolari Lewis Hamilton e George Russell. Il direttore del team Signatec Philippe Sino ha dichiarato a Sportscar 365 che Mick ha un certo interesse per l'endurance e abbiamo avuto l'opportunità di offrirgli una prima esperienza alla guida di questa tipologia di vettura. Questi test non sono una verifica se sia in grado o meno di guidare un prototipo ma una pura osservazione in termini di livello iniziale e di approccio a un mondo molto diverso dalla Formula 1. Sino ha descritto quindi questi test come un primo contatto definendoli anche un'opportunità per Mick di iniziare a conoscere le esigenze di guida di una vettura LMDH con abitacolo chiuso. Secondo Sino al momento Alpine non ha in programma ulteriori uscite di prova con Schumacher e ha minimizzato le voci che lo collegano al marchio francese in via definitiva per il 2024 dicendo che non è stato ancora deciso se il pilota farà realmente parte dell'organico del team francese. I test sul circuito di Jerez sono stati effettuati anche dai piloti già confermati nella line-up titolare di Alpine ovvero Charles Millezy, Nicolas Pierre e André Negrao ma sicuramente la prova effettuata da Mick Schumacher lascia intendere che ci sia la possibilità concreta di trovare un accordo per il futuro. Il pilota tedesco potrebbe comunque essere utile alla casa francese in quanto l'obiettivo finale di Alpine è quello di entrare in competizione nella categoria hypercar con una o addirittura due vetture a marzo 2024 con la prima gara in calendario del WEC ovvero la 6 ore del Qatar. Alpine è un altro brand importante nell'ambito del motorsport che si inserirà dal 2024 nella categoria hypercar insieme a Lamborghini, BMW e Isotta Fraschini oltre ovviamente ai team già presenti come ad esempio Ferrari, Toyota, Porsche, Cadillac e altri ancora in una serie che potrebbe veramente esplodere aumentando la competizione e facendo avvicinare ancora più appassionati di motorsport al mondo delle gare di durata. Questo era tutto per quanto riguarda il progetto di Alpine e di un possibile ingresso di Mick Schumacher nel panorama endurance mondiale per la stagione 2024. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, io vi chiedo di lasciare un like se vi è piaciuto questo contenuto, se volete iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per vedere i prossimi video. Io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao!